Con la scomparsa del Modena, attesa al massimo nelle prossime settimane, la rosa gialloblue verrà liberata d'ufficio, rimpolpando il mercato degli svincolati, che potranno rinforzare sin da subito gli altri club di serie citanti i pezzi pregiati che non dovranno aspettare il mercato di gennaio per cambiare squadra. Il portiere 29 N Nicolò Manfredini, i difensori Cristian Sosa, 32, Cesare Ambrosini, 27, Simone Aldovrandi, 23, Stefan Popescu, 24, Simone Fautario, 30, Luca Calapai, 24, il centrocampista Lorenzo Remedi, 26, i trequartisti Federico Carraro, 25, e Nicola Capellini, 26, Gli attaccanti Adriano Loauzada, 23, e Matteo Momente, 30, oltre agli under Antonio Loi, 21, e Marco Arcaleni, 20.